Musica Mattinata migliore Non si poteva desiderare per la regata laser l'ultima tappa del campionato zonale valida per la selezione nazionale della classe che quest'oggi si è tenuta a largo della costa monopolitana coinvolgendo oltre 70 derive provenienti dall'intera regione Puglia La fascinante bellezza paesaggistica offerta dal nostro litorale si è sposata con i più suggestivi scorci del centro storico cittadino regalando un'emozione unica a chi ha avuto modo di assistere all'evento organizzato in una chiave vincente dalla Lega Navale Italiana sezione di Monopoli Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!